Vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria in esecuzione di un fermo emesso dalla Didiana ai confronti di appartenenti alla Cosca Alvaro di Sinopoli, accusati di associazione di tipo mafiosa, estorsione, truffa aggravata, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra i fermati c'è anche il sindaco di Delia Nuova, Francesco Rossi, eletto tre anni fa a capo di una lista civica. Compressivamente le persone fermate sono 18. Rossi è accusato di associazione mafiosa. Secondo gli investigatori sarebbe stato a tutti gli effetti partecipe della Cosca le cui principali attività di arricchimento illecito sarebbero state legate ad appalti per lavori pubblici. Un sindaco dunque, dalle prime informazioni, che farebbe parte dell'Andrangheta. È una Cosca una delle più agguerrite e potenti del cosiddetto mandamento tirrenico reggino, talmente permeata sul territorio, da essere in grado di infiltrarsi negli enti pubblici e nelle amministrazioni locali, influenzandone addirittura le scelte e acquisendo illecitamente appalti e finanziamenti. Sono questi i motivi per cui hanno fatto avviare l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia del capoluogo dello stretto che stamani all'alba è confluita in una vasta operazione contro il clan degli Alvaro di Sinopoli e soprattutto sui suoi interessi criminali della zona, diversi fermi di indiziato di delitto, una ventina emessi dalla stessa DDA, eseguite da parte dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria nei confronti di presunti appartenenti. Tra questi, come detto, anche a carico del primo cittadino del comune a Spromontano di Delia Nuova Rossi e dei due imprenditori. Le accuse, lo ricordiamo, sono associazione mafiosa, estorsione, truffa aggravata, trasferimento fradolento di valori, tutti i reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.